Un'iniziativa per promuovere il brand della vallata in tutto il mondo, una sinergia che ha portato al potenziamento del sistema museale del Val d'Arno Superiore. Questo nuovo percorso è stato presentato oggi pomeriggio al Palazzo d'Arnolfo, sede del Museo delle Terre Nuove. Diventa più ambizioso, strutturato in modo tale da avere un comitato di indirizzo di cui fanno parte i sindaci e i rappresentanti legali degli enti privati titolari dei musei e di un comitato tecnico-scientifico di cui fanno parte i direttori dei musei. Un modo per valorizzare l'autonomia dei musei, grande dibattito che c'è stato in questo Paese e al quale noi crediamo. Quello che ci fa piacere è che aver lavorato anche per rinnovare il sistema museale, per dargli gambe più solidi e robusti, ha creato anche un clima di forte collaborazione fattiva e di partecipazione intensa. Quindi abbiamo svolto moltissime riunioni, moltissime attività, una partecipazione a un bando regionale per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento del massimo della cifra ottenibile l'anno scorso. Vice Presidente del Comitato di Indirizzo del Sistema Museale del Valdanno Superiore è Maura Isetto, Assessore della Cultura del Comune di Montevarchi. Ecco, quello che vorrei sottolineare è che con il cambio di passo che abbiamo dato al sistema museale abbiamo fatto emergere il ruolo dei direttori dei musei e quindi il loro coordinamento attraverso poi la ratifica del coordinatore che loro hanno designato, in questo caso è il direttore Paola Bertoncini del Museo Mine di Cavriglia. Ci siamo poi redistribuiti i ruoli, nel senso che è vero abbiamo un ente capofila che deve svolgere determinate mansioni, ma gli altri comuni, gli altri enti, nonché i musei, in questa ottica di collaborazione hanno voluto darsi un assetto anche differente vedendo la partecipazione di musei piccoli, di comuni più grandi, dedicati allo stesso obiettivo. Entriamo nello specifico dell'iniziativa con Paola Bertoncini. Sono progetti che hanno più livelli dall'aspetto comunicativo e social, quindi una ovviamente rivisitazione del sito, dei canali social, ma proprio anche un'impostazione comunicativa diversa rispetto a quella che è stata fino ad oggi del sistema, al tempo stesso la possibilità di avere delle visite virtuali all'interno degli spazi con degli approfondimenti. Parallelamente però i musei del Val d'Arna hanno deciso di mettersi in ascolto, abbiamo iniziato con le scuole cercando di capire quali problematiche potessero sorgere nel momento in cui non era più possibile fruire di attività educative che negli anni i musei hanno sempre promosso e da questo e soprattutto dal dialogo con la scuola siamo riusciti a strutturare delle offerte educative che permettono di avere un'accessibilità da remoto attraverso visite o attraverso per esempio dei laboratori. I musei del sistema sono sette, quindi non c'è soltanto il Museo Mine di Cabriglia di cui sono la curatrice, abbiamo il Museo Paleontologico di Montevarchi dell'Accademia del Poggio, il Museo del Cassero per la scultura dell'Ottocento e del Novecento di Montevarchi, abbiamo il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni, il Museo delle Terre Nuove dove siamo oggi appunto in questa presentazione sempre qui a San Giovanni, Casa Masaccio e il Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna.